Assisto è una realtà che si occupa esclusivamente di risarcimento danni da morte per incidenti stradali e per infortuni sul lavoro. Abbiamo scelto di occuparci esclusivamente di questo perché il risarcimento danni da morte è un tipo di materia completamente differente da tutte le altre, ha delle procedure differenti e quindi richiede una professionalità che deve essere veramente specifica del settore. In questo modo noi riusciamo a garantire ai nostri clienti finali, che sono i familiari delle vittime, tutti i servizi che sono utili dal momento di un accadimento luttuoso a seguito di un incidente stradale fino al risarcimento del danno. Assisto cura la prima fase iniziale delle indagini preliminari, quindi si interfaccia con i propri consulenti legali con le procure della Repubblica, mette in campo i propri periti, quindi ingegneri che fanno i rilevamenti tecnici, i medici legali, gli psicologi esperti proprio in trauma da lutto per accompagnare la famiglia in questo percorso così doloroso ed arriva anche al risarcimento del danno con le trattative e ovviamente con le compagnie di assicurazione nei tempi più rapidi possibili proprio grazie al fatto che ci occupiamo esclusivamente di questo, quindi noi solitamente dai 3 ai 6 mesi chiudiamo il risarcimento, risarcimento che resta nella totalità ai familiari, per cui noi non prendiamo nessuna percentuale sul risarcimento e lasciamo il 100% alle famiglie. Inoltre nel caso in cui ad esempio venga a mancare l'unica fonte di reddito della famiglia, Assisto corrisponde un'anticipazione rateale del risarcimento fino al perfezionamento dello stesso che come dicevo avviene comunque nel giro di 6 mesi.